Grazie per essere stati con noi, Fashion Show 2019, signori, la famiglia avventrice, lo staff di Temptation Gallery, grazie da Marco Renzi per essere stati qui a Palmi, la moda italiana stasera al protagonista, appuntamento al prossimo anno, grazie a tutti! Tutti con l'applauso, tutti con l'applauso, Loredana, Alberto, Paolo, i signori, guardate che meraviglia, guardate questa chiusura, e per voi, grazie a Luigi Auletta, Alessandra Rinaudo, a Carlo Pignatelli per essere stati con noi stasera a celebrare la moda italiana, viva Temptation Gallery, viva voi, auguri a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!